Ci ha parlato di pace, pace vicini e pace lontani, pace con Dio, pace dentro di voi, pace tra di voi. Questa pace è frutto di una lotta tremenda. Esistono tre modi di fare pace, o meglio di illudersi, di fare pace. C'è una pace che si ottiene quando si elimina l'avversario, allora il predominio di noi stessi, come individuo, come casta, categorie di persone, gruppo, Stato. E' una cosiddetta pacto romana, di cui parlava Tacito, Ubi desertum facium, ibi pace mappellam, dove fanno il deserto, ibi dicono pace. Così è detto, la Gallia è stata ridotta alla pace, perché sono state eliminate tutti i capi. E così anche nell'Africa romana aveva ricondotto la pace, e così anche nelle parti dell'Ungheria, Transilvania, e ne stati eliminati i capi, la pace è stata ritrovata. Non è questa la pace di cui parla il Signore, questo è il predominio della forza, e non è la pace, l'oppressione del nemico, o sia di colui che ci avversa, che viene messo a tecero, o viene prostrato, gli viene chiusa la bocca, gli vengono legati le mani e i piedi, e non si può muovere più, e questo è pace, non è pace. In apparenza è pace, ma non è pace. C'è una seconda maniera di fare pace, e di lasciar correre. Si suol dire, pro bonum pacis, per il bene della pace, e lasciamo correre. e allora ti permette agli altri, ai cattivi, di predominare, ti permette al male, di infiltrarsi e ruotere il bene. Questo non è pace, perché è favorire il male, favorire i cattivi. E' una pace illusoria, è chiaro che ci vuole molta prudenza, però, chi vuole ottenere la pace, indulgendo al male, permettendo il male, non otterrebbe la pace, ma è il prodomino degli altri, dei cattivi. Nel primo caso è il prodomino proprio, nel secondo caso, per più s'unanimità, è il prodomino degli altri, dei cattivi. E c'è un terzo modo, di fare pace, di avere la pace, ma questo è il terzo modo, è brutto di una lotta, di una lotta tremenda, che dobbiamo ingaggiare contro il male. Nel silenzio è una lotta che costa talvolta la vita, lottare per la pace, come si lotta per la pace, si lotta contro noi stessi, alle volte noi perdiamo la pazienza, alle volte abbiamo delle ragioni da far valere, alle volte abbiamo l'impulso, e dobbiamo lottare contro noi stessi, perché questo nostro modo di sentire non nuoce alla pace. È una lotta tremenda contro noi stessi, per mantenere la pace. è una lotta contro lo spirito di contesa, lo spirito di rivalità, lo spirito di esistenza, della critica, della mormorazione, che facilmente può avvenire negli altri, e bisogna lottare, esplicemente per eliminare lo spirito di contesa, il tremendo spirito di giudizio, che è il capo dei sette fratelli, che porta a discussione in un gruppo. E bisogna lottare, lottare, per mantenere la pace, contro questi spiriti cattivi, sono spiriti dell'uomo, perché non prevalgano, per cui lotta contro noi stessi, lotta contro gli spiriti, l'uomo cattivo che si arpeggia negli altri, che bisogna individuare, con cautela, con prudenza, ma lotta, lotta continua. Poi c'è una lotta contro il maligno, noi non ce ne accorgiamo, ma è il maligno che si arpeggia, che vuole la distruzione, la divisione, la confusione, che vuole, che suscita lo zelo per nascondere se stesso. diceva un Santo Padre, lo zelo ai sudditi lo ispira il diavolo, ai superiori Dio. Tante volte per zelo si muovono gli animi, non è il Signore, non è il Signore, qualche volta il Signore, ma tante volte il maligno, che inganna. E allora bisogna lottare contro il maligno in tutte le sue manifestazioni, e qui ci vuole molto discernimento per sapere dove soffia il maligno, di chi ti serve il maligno per portare la guerra e distruggere la pace. E c'è una quarta lotta, lotta con Dio, per mantenere la pace, questa lotta si fa nella preghiera, lottare in genoccia con Dio, perché frutto della preghiera è la pace. La pace va pregata, è un dono che scende dall'alto, pace in terra agli uomini di buona volontà, è la pace che scende dall'alto, è la pace di Cristo che si offre come Goel, come riscatto per la pace, come detto in un testo agli Efecini, che rievo con un testo di 57, di Isaia, dove dette così che Gesù è la nostra pace, quello che ha fatto di due un popolo solo, che ha battuto il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne tutto ciò che divideva per creare in se stesso un solo uomo nuovo facendo la pace e riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. Egli per questo è venuto a portare e annunziare la pace a cui stesso dice io, a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di Lui possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Questa è la vera pace, lottare con Dio offrendo se stesso in Cristo colui che ha lottato e offerto se stesso e nella croce ha ricondotto gli uomini alla pace, alla pace con Dio, alla pace tra di loro e alla pace con se stesso. E' questa pace che noi dobbiamo pregare, che come vi ho detto è frutto di lotta, lotta contro noi stessi, lotta contro l'uomo vecchio, lotta contro il demonio e lotta con Dio per ottenere da Lui offrendo noi stessi il riscatto, la pace che è dono Suo. sì o Signore Gesù tu hai offerto te stesso per darci la pace e il testo isaiano conclude non c'è pace per gli empi, solo per gli empi non c'è pace, ma per chi crede in te, per chi ti adora, per chi ti riconosce Signore ecco scenda la pace la pace che è frutto di preghiera, frutto di offerta, che più è un dono tuo che è una conquista degli uomini. amén. Ecco, la sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre ne chiuse le porte del luogo dove si trovavano, i riscepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo all'ora e disse pace a voi, detto questo, mostrò loro le mani e il costato, i riscepoli gioirono a vedere il Signore e Gesù disse a loro ancora pace a voi. Monsignore Gesù, come quella sera tu sei entrato nel luogo a vedere i riscepoli, così questa sera vuoi entrare in questo luogo e mostrando le tue mani prezzo della pace mostrando il tuo cuore scorciato prezzo della pace dicesti la pace sia con voi la pace sia con voi signore 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 donaci la pace mostra ancora il tuo costato aperto le tue mani aperte i tuoi chiodi che hanno travorato le mani i piedi e dicci la pace sia con voi alita su di noi il tuo spirito che è spirito di pace e donaci la pace che scende da te dal tuo sacrificio sulla croce gloria e gloria a te signore fare la pace nel paese signore e qui il signore ci dà un testo levitico 26 68 io stabilirò la pace nel paese nessuno vi incuterà favore vi codicherete e farò sparire dal paese le bestie malvagie e la spada non passerà per il vostro paese voi insegnerete inseguirete i vostri nemici ed essi cadranno dinanzi a voi colpiti di spada 5 di voi ne inseguiranno 100 100 di voi ne inseguiranno 10.000 e i vostri nemici cadranno dinanzi a voi colpiti di spada io mi volgerò a voi vi renderò feconde e vi moltiplicerò e comprenderò la mia allianza con voi io signore tu stabilirai la pace nel paese e rimanerai il male e rimanerai i nemici che ci combattono i nemici spirituali tu volterai la pace e la concordia e la tranquillità e noi mangeremo il frutto della terra che tu ci darai mangeremo la tua pace la tua gioia la tua serenità il frutto della testita lode e gloria a te oh signore vediamo al signore la nostra pace vediamo al signore apriamo il cuore apriamo le labbra voi che siete senza pace noi che siamo senza pace vediamo al signore dammi la pace signore dammi la pace signore la pace del cuore la pace in famiglia la pace con mia moglie la pace con mio marito la pace con i miei figli la pace con i miei vicini dammi la pace signore ognuno di voi griglia al signore e lei ci ascolterà Gesù dammi la pace del cuore Gesù porta la pace nel gruppo nostro noi ci chiediamo la pace da noi non ce la facciamo porta la pace signore in mezzo a noi risate al signore ognuno grida la pace chieda la pace avete un cuore avete una bocca e la pace è un dono di Dio chiediamala al signore e il feggior dote quando inizia la santa liturgia della messa dice la pace sia con voi e il popolo risponde con il tuo spirito se vuoi che celebriamo la liturgia di Rode con la pace è per questo che tu vuoi la pace in mezzo a noi dacci la pace signore un dono inconventurabile la pace tu sei la pace signore dacci te stesso signore pacifica il nostro cuore signore ho visto ho visto le sue vie ma voglio sanarlo voglio dirarlo voglio offrirgli consolazione ai suoi affritti io pongo sulle dambra pace pace lontane e pace vicine dice il signore io li guarirò grazie grazie signore perché tu vuoi dare pace pace vicine pace lontane e questo è frutto della tua guarigione signore siamo ammalati tutti abbiamo bisogno di essere pacificati di essere guariti da te signore dacci la guarigione della pace e i nostri cuori siano guariti da te dacci la tua consolazione la tua pietra dacci la pace oh signore pace dentro di noi pace tra di noi dacci la pace oh signore alleluia alleluia vediamo un momento e facciamo il punto su quanto ci ha detto il signore sintesi della preghiera il signore ci ha dato il dono perché la preghiera è un dono non è fabbricata da noi non è confezionata da noi ma è un dono che scende dall'alto al momento opportuno il signore ci ha dato il dono della preghiera per la pace ci ha fatto invocare la pace con dei bei canti nello spirito ci ha dato dei bellissimi testi sulla pace e adesso ci ha fatto chiedere la pace la preghiera ha avuto molto risonanza perché qui ci sono una decina forse più di biglietti con citazioni di passi biblici sono preghiera o testi suggeriti dallo spirito oppure testi che hanno avuto risonanza dentro di noi e hanno ricordato dei testi biblici e poi ci sono qui tre preghiere pervenute dalla sala dove si chiede la pace la pace al signore segna che la preghiera è stata sentita che l'argomento della pace è un argomento che ci lega tutti ci attanaglia tutti perché pace non ne abbiamo e pace noi desideriamo ardentemente non abbiamo pace dentro di noi pace in famiglia pace attorno a noi quante nemiche inchide la nostra pace preghiamo pertanto il signore che abbiamo la pace dentro di noi e siamo portatori di pace il patriarca Gian Brangesto ricevette dal signore il saluto che i frati dovevano dare pace e bene pace e bene e nella piazza di Assisi quando lui già aveva composto il canto delle creature egli mandò i suoi frati a cantare perché non c'era pace tra il vescovo e il sindaco di potestà ossia tra la parte civile e la parte eglesiastica della guerra e allora i frati andarono in piazza e il patriarca San Brangesto compose l'ultima scrofe del cantico di frate sole biati coloro che perdonano e li offese biati coloro che amano la pace e allora il potestà e il vescovo scendero e fece la pace al canto dei frati dei fraticelli scalzi questo noi dobbiamo predicare e portare nel mondo evangelizzare la pace ecco allora chiudiamo con una preghiera che qui hanno deposto sull'assare una delle tante preghiere che dice così padre santo anche io ti chiedo la pace nella tua mamiglia nel mio cuore voglio essere gioioso in te ti prego per la intelligenza e sapienza e carità di Alessia non sappiamo scontiggi i nostri nemici che ci offrivano ti chiedo la mia conversione e di quelli che ci fanno morire che ci invigliano e ci vogliono distruggere con la loro malvagità perdonami fa che i parenti di mio marito perdonino la parola di mia madre detta 26 anni fa tante volte noi non dimentichiamo la parola la ricordiamo sempre ricordiamo sempre ricordiamo sempre ed è fonte stato origine di sconvolgimenti di rovina interiore di guerra di distilio una parola fa che possa capire che la situazione di allora è veramente dimenticata fa che mio marito possa sistemare tutto come mio ruolo seguendo la casa e il terreno affitti la casa ti prego per il matrimonio di Olivia di Giuseppe signore lascia la pace e te la preghiamo ecco è un accorato appello al signore un accorato preghiera di donare la pace bene di queste preghiere ce ne sono diverse ma tutti dentro il nostro cuore abbiamo desiderato la pace ma la pace va fregata e la pace va donata vuoi tu la pace dona la pace e allora noi ci alziamo ci diamo la mano e ci auguriamo la pace la pace del signore sia sempre con voi datevi il segno della pace bene